Lo spettacolo di danza, la pace tra i popoli, tenutosi il 29 maggio 2024 presso l'Auditorium Fran Martino di Caulonia, ha offerto una serata indimenticabile all'insegna dell'armonia e dell'unità. Promosso dall'oratorio di Roccella Ionica e ideato dalla rinomata coreografa Roberta Franco, l'evento ha affrontato il tema della pace in un contesto internazionale complesso. La scuola di danza di Roberta Franco ha esplorato temi filosofici e spirituali attraverso performance che hanno trattato amore, perdono e saggezza. La serata ha visto anche la partecipazione speciale di Manuela Cricelli, cantante roccellese e cavaliera al merito della Repubblica Italiana, il cui talento ha aggiunto prestigio all'evento. Pino Gagliano di Telemia ha presentato la serata creando un'atmosfera coinvolgente ed emozionante. Gli allievi della scuola di danza hanno eseguito una serie di esibizioni spettacolari dimostrando straordinaria abilità tecnica e una profonda comprensione dei temi trattati. Un momento saliente è stata la performance della giovane campionessa mondiale Siria Ierino che ha incantato il pubblico con il suo talento e la sua maestria. La serata si è conclusa con un'esibizione emozionante sulle note di Voglio svegliare l'aurora di Don Cosimo Castanò accompagnata dal battito delle mani del pubblico. Questo finale ha sottolineato il messaggio di speranza e unità dello spettacolo lasciando un'impressione indelebile nei cuori degli spettatori. La pace tra i popoli ha comunicato messaggi di valore e ispirazione attraverso la danza invitando alla riflessione sulle sfide della vita e sull'importanza della pace tra i popoli.